Visitare la città, apprezzarne le bellezze e i monumenti, ma avendo a disposizione una guida interattiva da attivare all'occorrenza. Trani guarda la tecnologia come un prezioso alleato per valorizzare il ricco patrimonio artistico e raccontare la storia spesso dimenticata. I cartelli turistici sono stati dotati di pannelli con tecnologia che consentiranno di accedere con il proprio smartphone a varie schede informative del patrimonio culturale della città. Ci sono le traduzioni in italiano e in inglese, c'è un QR code che potrà essere semplicemente inquadrato con il cellulare e che riporta al sito Trani Città in Tasca. Non solo sono indicati i vari immobili, le varie chiese, le varie strutture artistiche storiche della nostra città, ma tutta la storia connessa con le fotografie e i video. Questi sono appunti che spero possano consentire ai cittadini di approfondire la conoscenza del nostro patrimonio. Un progetto che ha l'obiettivo di stimolare non solo la curiosità dei visitatori, ma anche dei cittadini, i veri custodi delle bellezze della città. Mira a far comprendere tutto il nostro tessuto storico, culturale, patrimonio architettonico per i turisti, ma soprattutto anche per noi stessi. Io dico spesso una cosa, una città è grande se sono grandi le famiglie e sono proprio le famiglie che nel corso dei secoli ci hanno donato un patrimonio artistico e architettonico di notevole interesse. Una città in tasca che permetterà a tutti di leggerne, scoprirne e approfondirne la storia. Credo che sia una tappa necessaria dovuta per una città che si sta sempre più trasformando in una città turistica.